Mi sentite perché siamo in viaggio? Sì, sì, ti sentiamo Daniela, ti sentiamo. Pronto? Non so Jacopo se... Sì, 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 perché siamo in viaggio, non so se mi sentite da studio bene. No, no, ti sentiamo, ti sentiamo. Dicevo una vittima importante anche perché insomma ci si aspettava anche un segnale, perché sono sicuramente le nostre vicissitudini anche per il cambio sulla panchina, al ritorno di Carlo Ferrone che evidentemente ha fatto bene alla squadra. Un'avvila che ha giocato con un grande cuore, una partita di grande cuore, di grande sacrificio. Quindi bene così, ora ci sono queste due settimane di lavoro intense per prepararsi al meglio e per cercare di prendersi questa sardegna. Daniela, se non cambiava tanto a livello di classifica, ma a livello però di morale, qualcosa ridà questa vittoria alla formazione Rosso-Blu. Sì, io sottolineavo proprio l'aspetto psicologico, perché alla fine il tecnico Ferrone insomma ha lavorato sugli stessi uomini, a livello tecnico-tattico non si poteva cambiare, non si poteva chiedere nulla alla squadra, invece era importantissimo l'aspetto mentale, il credere nei propri mezzi, quindi sicuramente oggi c'è stata una risposta importante anche sotto questo punto di vista, come dicevi. Quindi il 21 maggio, gara 1 contro il Rimini. Sì. Va bene, grazie Daniela. Va bene Jacopo, grazie a voi. Buon viaggio di ritorno ovviamente. Grazie, grazie.